Raghi, stiamo giocando a Fodalenter Paper Education, non so come si gioca Cosa ho detto? Please finish, veni in classroom adesso Oh, hello, sei un nuovo studente? Un pochino C'è un test che si fa oggi, Abby si chiama E sono felice che tu sei riuscita a farcela Eh, per favore, non fallirlo, ok? Non fallire le classi in questa scuola Non ne vale la pena Se riesci a sopravvivere, posso parlarti? Se riesci a sopravvivere Allora, siamo passati da non fallire le tue classi a se riesci a sopravvivere Interessante Oh, giusto, devi andare ora Miss Circhio Miss Circles Che si chiama Miss Circhio Non lo so cosa ho detto Sì, signora Mamma mia, ragazzi Non so se è bellissima o mi fa paurissima È una delle due Una monetina Devo avere paura di questi passi Oddio, che cos'è questo? Uno più due, tre Ok, due per due è quattro Eh, 16 più uno è 17 17 Ok, a più Mamma mia Raghi Non ho nemmeno letto le istruzioni Sentivo un orologio però Quindi immagino queste cose siano a tempo Che ansia Ok, non fallire i test Non fallire i test Sono qua dentro Ok, ho preso un energy drink Ok, questi sono test Proviamoci, dai Eh, 7 per 7 49 La somma Raghi, non ho idea Zero In che senso? Non ho tempo Ok La somma di 7 per 7 7 per 7 è 49 La somma 4 più 9 Mi sta chiedendo Quante parti ha un pentagono? Banana 3, 5 Pentagono 5 Raghi, che cosa sta succedendo? La somma di 18 meno 9 Eh, 18 Meno 9 9 C'è qualcosa che non va C'è qualcosa che non va Qualcosa non va Tutte le risposte sono sbagliate Mettiamo a caso 21 Raghi, che significa? Non c'era una risposta giusta Tra quelle domande Non è colpa mia Lo so Però ne ho fatto uno buono Ne ho fatto uno buono Ne lo giuro Ne ho fatto uno buono In uno ho preso A In uno ho preso A Posso aprirli questi? Ah, non posso nascondermi Perché c'è la professoressa Ok, 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 ok Corri, corri, corri Ehm Ehm Devo far dire Ci sono altri test da fare Anzi, meglio Posso scappare da questo posto Per favore Vedo delle altre classi lì E non la sento Perché di solito Sento i passi Mamma mia, è lì Ok, la biblioteca Forse mi potrebbe aiutare Con quello che mi serve Effettivamente Mamma mia, la sento Qua dietro Via, via, via Ah, è l'uscita Perché non posso andarmene? No, 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 no Cosa c'è qua? Niente Mi scusi? Non so se mi vuole ammazzare O non mi vuole ammazzare così tanto Visto che Mh Mi sta inseguendo Ma non troppo Raghi, non lo so Credo sia passata Comunque abbiamo preso solo due compiti Secondo me possiamo rifarci Possiamo rifarci No, qua ci sono state già 32 volte Eh, 2 su 8 Devo prendere altri 6 compiti Non so cosa sia quella cosa Che ho preso Della classe di chimica Però va bene Ce n'è un altro C'è della vita Credo che mi servirà Soprattutto perché se fallisco un'altra volta Un altro test Credo che la prof inizia a correre In modo molto nervoso Mamma mia Oh, è vestita molto bene Comunque Complimenti Alta 6 metri Ragazzi Che si deve abbassare Per passare Nelle porte Va bene Ok Ok, un altro test Pronti? Vediamo di farlo giusto Stavolta Allora 6 sono le 12 di pomeriggio Quindi mezzogiorno Quante ore mancano alle 6? 6 12 no? Non lo so È sbagliata Oreo Ti piace la matematica? Sì È sbagliato comunque Tutte sono uguali Ma è comunque sbagliato Le persone bevono la zuppa 41 Mamma mia ragazzi Questa qui mi vuole solo ammazzare e basta Oddio La senti C'è qualcuno lì in fondo C'è qualcuno lì in fondo E non è la prof È un'altra prof È un'altra prof Salve Oh Oh Sta correndo Raga ma la vedo solo io È impazzita È impazzita Sta correndo come non so che cosa Mamma mia Cosa è successo? Sono uscito dal coso E invece mi sono ritrovata qui Stanza di Alice Non entrare Ragazzi perché mi sta portando appresso? C'è qualcosa che non va Mi sto portando appresso un Un nascondiglio Non mi piace questa cosa Funziona? Mi nascondo se sto ferma Oh ma guarda Di nuovo L'hai fatto apposta È il nuovo aggiornamento Ah no? E se sto ferma? Vediamo Sto qua Sto qua Che faccio? Ho trovato un altro test Cosa c'è dopo 69? È 70 Sbagliato Eh vabbè Vabbè dai Sì patata Ragazzi c'è qualcosa che non fa Sono un armadietto Mamma mia Mamma mia Credo che l'abbia visto Che non sono un armadietto È diventata propante questa cosa Può entrare nelle classi? Vabbè non è mi uccida Tanto non voglio essere un armadietto Ok adesso siamo più preparati Come armi a un compasso Ok allora Questo Prima l'abbiamo fatto tutto giusto È l'unico che potevamo fare giusto A quanto pare 4 16 più 1 17 Perfetto A più È fin qua tutto ok T'ho posto Mi posso avvicinare Ora Perché ho fatto il test giusto Però devo aspettare di fare il suo sbagliato Banana Perfetto Non ho parlato di nuovo con quella ragazzina Tanto so che cosa mi avrebbe detto Mi ha detto che Fallisco Se fallisco muoio Però i test non si possono superare Allora la sento camminare Ancora non la sento correre Quindi figuratevi Qui c'è l'uscita Cerco di ricordarmela Perché secondo me arriverà un momento In cui potrò uscire Posso prendere una Ah mi ha dato della vita Va bene Mamma mia che l'ha vinto sta scuola Non c'è un test È qui È qui a fianco Ok ce n'è uno qua di test Oreosi 41 Tanto è inutile È uguale quindi facciamo Mamma mia Mamma mia Corri 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 Prof mi lasci un attimo respirare E ne ho presi solo 3 E lei sta già correndo come se fosse una sportiva nata Che faccio Devo fare pure questo test Però ormai Mamma mia Ma corre troppo sta tizia Ok ho dovuto usare una di queste cosettine da bere Ma com'è che sta sempre dove sono Mi odora Cosa succede Mamma mia Ho finito le barrette No Nascondiamoci Vediamo cosa succede Ok Ok sembra che se ne sia andata Voglio andare qua alla mensa E a prendere delle cose da bere Perché altrimenti non sopravviverò Lo so già C'è un oreo Cosa fa l'oreo Ok grazie C'è una prof Con un'altra arma Aspetta Cioè non mi sta Non mi sta inseguendo Ma che cavolo Scusami Scusami Non me ne da altri Lei Chi è lei Ah ottimo Meno male Molto gentili i professori qua Ok sono a 5 fogli Ok Oh no È quella di prima raga Adesso ce ne sono due Contro di me Stai ferma cavolo Allora posso dirvi che le vite Non mi aiutano Bene perfetto Perché me ne hanno dato È un'altra Ho 3 vite in più Cosa me ne faccio di 3 vite in più Se tanto muoio Un biscotto Ok un biscotto mi può salvare la vita Un altro test Siamo a 6 Perché Perché Sono tutti arrabbiati Beh mi piacerebbe Allora riesco ad arrivare a 5 pagine Poi mi squartano di botte proprio C'è schifo questi test Terribili Signora lei si sposta da qua Così almeno non mi fa perdere una vita Appena iniziamo la partita Si si sposta Va bene Non si sposta Allora qua sono tutte sbagliate Banana Banana è la mia risposta preferita You failed Andiamo avanti Allora fin quando lei cammina tranquilla Non me ne frega niente E poi non ne ho nemmeno tanta paura di lei Perché comunque lei la posso fermare con gli oreo La sua collega no Non lo so C1 sì Ah ok Stanno dall'altra parte Ottimo Qui c'è una porta di uscita Ok questo mi piace Ci fa correre per un po' Qua non c'è nessun test Entrata e se n'è andata Godo Mamma mia Prof ascolti Facciamo una cosa divertente Venga qua Devo andare da quella parte Mamma mia Mamma mia Ok ci sono test Poi ho Sì c'è un test 70 Maglia morta La tua mamma Mamma mia Ma perché non mi fa comprare nulla Ok dobbiamo comprare qualcosa qua Allora le vite non me ne faccio niente Mi servono O gli oreo Eh che cavolo Ok gli ho dato un robino da mangiare Non ho monetine Lei non è arrabbiata con me vero prof? Ora sì che sarà arrabbiata con me Vediamo Le altre volte non sono riuscita a nascondermi Vediamo se il resto non ascolta quello che succede Niente Mamma mia Quanto sono veloci Io ho una moneta Non c'ho manco oreo Non ho niente Quando vuoi posso uscire? No senti senti Quella pazza Quella pazza col coltellino piccolo Terribile Non posso rimanere nascosta per sempre Ok quella pazza era lì a fianco a sinistra Monetina Mamma mia Mamma mia Mamma mia Oh Un testo è qua Oh Vabbè raggi uno Me ne mancava Ma sono troppo veloci Io uso pure le cose Ma allora mi raggiungono Anche se io uso la roba Non ce l'ho fatta Oh oreo che sto cercando di provarlo Raggi non ce l'ho fatta Mi ha battuto Potevo solo sperare di farcela con i test Ma i test non hanno senso Quindi sono morta Ditemi voi nei commenti se l'avete finito E qual è il finale Soprattutto Perché c'è una stanza chiamata Stanza di Alice Come ci si entra lì dentro?